Buongiorno a tutti sono Sandro Tognazzi e vorrei parlare di Ugo Tognazzi che purtroppo non è più tra di noi ormai non bel po' perché era nato il 23 marzo del 1922 sarebbe stato 100 anni a marzo di quest'anno purtroppo aveva fatto tanti bei film circa 150 filmati di cui tanti erano molto conosciuti molto aveva fatto anche televisione con Raimondo Vianello una serie di cose molto belle ed era un imperfetto da buon italiano e una persona che aveva tanta voglia di vivere così volevo fargli gli auguri come se fosse qua ancora tra di noi spero di chi che stia bene e che voglia far ridere anche dove si trova come ha fatto con noi arrivederci a presto